bentornati su my football jersey oggi non vediamo una maglia di calcio ma bensì queste bellissime spaia di scarpe queste sono un paio di nike air jordan passe low per travis scott un paio di calcio le scarpe sono meravigliose nella mia classifica prendono 5 stelle mio figlio appena le ha viste ha detto babbo quelle sono le mie qualità incredibile tra l'altro veramente con una definizione e dei dettagli veramente stupendo il costo che vedete qui sopra vi ricordo che include anche le spese di spedizione tra l'altro trovate qua sotto in descrizione anche il codice di un coupon per ottenere uno sconto del 10 per cento andate a vedere in descrizione qui sotto perché trovate anche una fantastica iniziativa di cashback che il sito sta promuovendo in questi giorni quindi andate a leggere come diciamo la promozione si sviluppa ora vi lascio la parte finale prima però lasciateci un grande like ma soprattutto iscrivetevi al canale a voi non costa niente ma noi ci permette di avere sempre nuove recensioni per oggi è tutto alla prossima ciao 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 ciao